riesci a vedere chi sta scommettendo contro di me e mi prendo giù i nomi e poi io scommetto su elena puoi deludere mentre il no sta continuando a salire adesso l'ha appena pareggiato il sì resta fermo lì capito quindi qualcuno si è speso 5000 punti per cercare di far ma l'importante è crederci giusto così il no ha appena superato il sì è criminale calma io sto costruendo dal basso attenzione giro si è girato no si è quasi quasi girato giro attenzione cosa devo fare giro giro se si gira e giro commento alla frosinone culone se fanno palo ok crosso come si crossa quadrato eccolo sei girato giro dove sono le buvuzela esatto storia è un bot a livello esperto c'è la modalità cobi e ma questo mi sembra anche troppo semplice ma se sono un fenomeno nato ma per cortesia due stagioni non l'ho mai fatto ma un giorno succede che ti mando a quel paese non c'è paragone nell'utilizzo delle degli analogici c'è proprio una precisione incredibile non avrei mai saputo fare questo tiro così preciso così preciso signori bravo bravo la cosa che non so fare è gol perché arrivo davanti alla porta e poi tiro delle delle sbordate chissà dove andiamo bene la cosa che non so fare è gol vabbè ho capito che passi dalla partita davanti indietro nel campo senti anche rodman non sapeva mettere i canestri senti copio però ti devo dire la verità qua in chat c'è una rivolta in corso come rivolta è perché dicono che stai città ma come sei un truffatore cobi truffaldino che ci ha stare vedi questi passaggini questi filtranti bello beccato beccato perché c'era devi devi sorprendere il computer in pratica e anche me stesso dai il tiro della fenice via bravo vabbè ragazzi adesso ho capito perché delle volte prendo dei gol ecco però difesa schierata così no dove poi magari c'è poco movimento off the ball cosa devi continuare a fare questo finché anche questo comunque la chat continua a rivoltarsi ma perché perché dicono che non va bene investigazione truffa di cobi in corso io non ho parole ma questa difficoltà è super facile anche il signor gamestop avete dei testimoni vedi hai già stunnato il computer hai detto che è mamma mia che feno qui brutto passaggio che feno che feno che feno che feno che feno dai 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 qua c'è qualcuno titipicun scrive la chat sa che cobi ruba come la juve ma perché faccio il noob solo per farvi ridere è qua troppo extra passaggio su questo io per favore cioè è proprio bello da da impugnare non potrei dirlo in altri modi e senza fare doppi sensi bene non potrei dirlo in altri modi difficoltà super campione perché vogliamo l'umiliazione di caveri voi siete contenti solo così maledetti regia per favore passatemi il momento in cui viene chiaramente messo il livello di difficoltà maggiore così che vuoi la prova sì sì quello massimo no massimo no incredibile ruba palla adesso faccio un fraseggio qui un tiki taka e con calma con calma caccio champagne non può superare il centro cosa devo fare passaggi cambiare mestiere no no portiere 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 papà ma che fuori guardalo rovesciata aldo che esce fuori dalla sabbia era proprio alto che usciva fuori dalla sabbia allora ecco qua ecco qua o la squadra sale inutilmente cobi sta perdendo quindi va bene quindi va benissimo così per difficile però un altro c'è sì siamo vedi consigli da pro player e cobi che perde equivale a un win win mi aggredisco c'è un bellissimo tasso sul pad che qual è spegni i console un po drastico però anche qua dai dai sì sì e poi ho difeso l'onore ho difeso l'onore signori dai spiegaci la tecnica della doppia marcatura gobi ma questo vuol dire invece di due di un difensore solo vanno due sulla palla c'è anche nel basket è che ne so tante volte è come la bottarga magari lo sai magari non lo sai comunque sei stato bravissimo ciao